Poeta, letterato, professore universitario e uomo di carità e di fede. Monte San Savino si prepara a celebrare la trentesima giornata salvadoriana per ricordare la figura dell'intellettuale ed educatore cattolico savinese Giulio Salvadori. Nato nel comune della Val di Chiana, il 14 settembre del 1862 visse a Roma gli anni della giovinezza. Fu compagno d'università di D'Annunzio e Scarfoglio, seguace di Carducci, poeta e acceso critico letterario. Proprio in questo periodo giunse ad abbandonare la fede cristiana nella quale era stato cresciuto dalla madre Elisa. Né il sapere, né l'arte, né infine le nuove teorie naturalistiche darwiniane poterono però dare completa soddisfazione alla sua sete di sapere. Dopo un travaglio spirituale nel 1885 riabbracciò con piena ragionevolezza la fede. Si iscrisse al terzo ordine francescano e fu il primo docente di storia della letteratura italiana presso la Cattolica di Milano. Salvadori fu anche uomo di grande pietà, sostenne e promosse infatti opere educative e caritatevoli. Morì a Roma il 7 ottobre 1928 e prosegue tutt'oggi la raccolta di testimonianze per istruire il suo processo di canonizzazione. L'evento a lui dedicato, promosso dal Centro Studi e Documentazione Giulio Salvadori in collaborazione con la Diocesi di Arezzo, Cortona Sansepolcro e con il patrocinio del Comune di Monte San Savino è in programma per sabato 8 ottobre. Alle 17 nella sala del Palazzo Galletti Camurrini, in fondo all'omonima piazza Camurrini, c'è una conferenza. Parteciperanno i relatori di Monte San Savino e di questo ne siamo orgogliosi. Monsignor Vittorio Gepponi parlerà di Giulio Salvadori come uomo di fede e di dialogo. Marta Sciabolini invece riassumerà le idee, linee guida di una relazione da lei svolta per un concorso che ha vinto due anni fa sulle presenze femminili nella vita e nel pensiero di Giulio Salvadori. Domenica 9 ottobre alle 11 nella chiesa di Sant'Agostino verrà celebrata la messa in ricordo di Salvadori.